Rett, quale sarà il suo impegno in Consiglio regionale? Beh, innanzitutto ho avuto anche la fortuna che stiamo discutendo in questo momento delle unioni territoriali dei comuni e del mio argomento, pertanto questa sarà una delle principali cose perché le uti in questa provincia veramente rappresenterà un grossissimo problema e questo è un impegno soprattutto per cercare di migliorare questa legge ma non così per sfizio, per opposizione ma soprattutto per aiutare questi comuni che assolutamente non potrebbero altrimenti convivere in questa forma, in questa situazione.